good morning milano buongiorno a tutti 708 giovedì 12 ottobre benvenuti al nuovo appuntamento con good morning milano qui su crystal radio insieme a norenzo nasieri e a fabio ranfi come state tutto bene come va come va come va che cosa state combinando cosa hai fatto ieri sera ieri sera sono andato in un ristorante brasiliano con una nota app che potremmo the spoon ok capito il cortello ok quindi appena aperto e da buon povero è pagato da buon sì adesso si dice stirato stirato si dice c'è stirato per via di persone squattrinato si c'è stirato stirato quindi chiunque stirato mi sa in questo momento a milano lo sappiamo bene abbiamo parlato che nei giorni scorsi magari ne parleremo ancora di quanto è complicato si può dire vivere a milano nei tempi moderni certo assolutamente però è anche tanto bello vero masieri vivere a milano e beh certo è chiaro come molto molto perché milano è un gran milano ecco ma poi il posto vicino a sì che è un'ora da tutto un'ora e mezza dai facciamo questa è la teoria di masieri sì non c'è poi la spieghiamo per bene dopo è vero è un bel argomento per good morning va bene va bene dai adesso parliamo di belle cose e allora è il momento di fedez analisi articolo 31 con disco paradise la disco paradise 7 13 minuti qui in diretta dalle giostre di corsico benvenuti quanto ti piace questa canzone io dico solamente 12 ottobre non dico niente ok infatti sì sì sarebbe da scherza a parte sta durando più del del previsto ma no ma solo perché non posso toglierla dalla programmazione diciamolo proprio spudoratamente ma possiamo dire scusate dopo di noi per tre giorni alla settimana c'è una trasmissione senti questa che è una bomba che parla di musica di quella vera no musica anni 70 musica rock sei un po troppo cattivo fabio no no non è che sono cattivo ma proprio sentito il testo sentito adesso cioè veramente sconclusionato che se io prendo chat gpd dico scrivimi delle parole a casa non lo fa meglio posso dire posso dire vabbè però però invece sei fan di talodisco non sono fan sono tollerante che è diverso ma che talodisco la tollero poi una poi già che nella stessa estate far uscire due canzoni in contemporanea con la parola disco del titolo vabbè mi fa un po' girare le balle però nel senso non scusate stamattina sono polemico sulla buona musica stamattina io sono più calmo sì sì ma no perché insomma c'è la musica pop deve esistere ci mancherebbe la musica stupida anche che venga le belle stupidate da cantare con gli amici ma benissimo con i finestrini abbassati con i finestrini abbassati come è che basso il finestrino ascoltiamo Battista alza il finestrino che ascoltiamo Battista diceva uno dei due non mi cosa pensa non mi cosa quale delle due dice sta cosa una delle due dice questa cosa qua questa forse no Battista mi ritorno in mente questa quindi questa qua ecco l'abbiamo ben ascoltata ma ancora l'avevo sentita dai andiamo avanti andiamo avanti non facciamo nessun riferimento appunto a quella mia ah no sì sì la teoria la tua la grande teoria la grande teoria la teoria M quella di Masieri ok la teoria M Masieri Milano è la città migliore al mondo secondo te no non migliore in Italia ho detto nella posizione strategica ah ok nella posizione più strategica in assoluto in assoluto quindi nell'universo ma infatti con un bel viaggio in macchina non mi ricordo dove stavamo andando con i miei amici è venuta fuori questa cosa un'altra città come Milano in una posizione strategica come quella di Milano in cui hai delle montagne bellissime a poco del mare bellissimo no non lo so ma come non lo so poveri Liguri del mare del mare dell'acqua ha un'oretta e mezza c'è i laghi anche i laghi e noi si stava parlando la pianura padana che ne so sì pianura padana la tangenziale va bene Fabio e tutte quelle cose e noi si stava parlando vabbè dimmi una città americana sì ma gli americani hanno poche centinaia di anni di storia quasi nulla parliamoci chiaro se devono vedere qualcosa di storico devono prendere l'aereo e farsi 12 ore bravo ad esempio quanto è la Valcamonica da Milano un'ora e mezza neanche e puoi vedere le rupestre i grotti rupestre mentre gli americani per vedere un po' di storia devono attraversare l'oceano gli spagnoli eccetera però sono un po' essendo nella coda dell'Europa sono un po' più lì mentre noi Milano siamo sostanzialmente attaccati all'Europa come diceva il buon Lucio Dalla attaccati all'Europa con tutto lo stivale sotto a Godurie a Godurie quindi welcome to Milano venite Milano se qualcuno vuole confutare questa tesi non l'abbiamo ancora ricordato 3-3-1 7-8 5-3 5-5-5 sono inattaccabili cioè la teoria M è che Milano è nella posizione assolutamente strategicamente migliore di tutti gli altri perché ha un'ora e mezza da tutto esatto se vuoi vedere tutta la storia del vecchio continente Milano in un aereo con un'oretta e mezza di aereo riesce ad arrivare ovunque va bene tutta Europa non fatelo in macchina magari perché c'è traffico non lo so chiediamo invece a Luce Verde che ci colleghiamo adesso con Luce Verde situazione del traffico in questo momento su Milano e città metropolitana e come è arrivata se n'è andata senti questa canzone come arriva lentamente poi se ne va via lentamente era Elisa con Mare e Mare molto bella devo dire molto bella la versione devo dire mi piace anche la versione originale so che non è che proprio stravedo per Carboni ma devo dire che Mare e Mare cosa sei venuto a fare ma che voglia di arrivare ecco Stevert 720 331 7853555 potete scriverci mandaci un whatsapp chiederci un po' cioè dirci anzi un po' quello che state facendo come va la vostra mattinata se siete già nel traffico oppure siete già sul tram mentre andate all'università ad esempio questa immagine di qualcuno che in questo momento ci appa il tram e il valo università oppure sentite diteci che state facendo colazione oppure semplicemente state dormendo cioè programmate il mondo non si può programmare un whatsapp scrivendo ciao sto dormendo no non si può stai a me carino ma si farà si farà se c'è l'altra nota app di messaggistica tra poco arriverà appena la mette una la mette quell'altra si appena oddio è un po' lento whatsapp su queste cose perché non c'ha solo whatsapp c'ha whatsapp c'ha instagram c'ha messenger ogni volta che fanno aggiornamento devi capire dove metterlo capito come ti regalano una cosa ti regalano non so ti regalano una statuetta da mettere in casa te vai e la metti in casa cioè un monolocale fetido piccolo dove vivi da solo quella tua tristezza della cooperativa sottopagata non paghi neanche l'affitto come minimo occupato da te dai tuoi compagni la do a Fediz che ne so e non so dove metterla di 140 stanze è un problema tra i tapiri è un problema è un problema come quelli famosi che hanno la mensola solo per i tapiri solo per i tapiri solo per i trofei i trofei diciamo il tapiri è un trofeo ma non lo so e per molti si vabbè alla fine sono sempre io mi mi dissocio dallo stesso io mi vanto di aver visto pochissime volte strisciano io sono di quell'età pochissime che se le hai viste tutte le puntate vabbè erano gli anni 90 eh sì sì tutti quanti tutti quanti tutti quanti mi ricordo la prima puntata andiamo avanti la puntata la coppia era quella storica sì 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 andiamo avanti andiamo avanti iniziamo con la segna stampa di oggi la segna stampa vengono signori vengono notizie annunciazione annunciazione aumenta adesso allora faccio il titolo clickbait clickbait scusate deciso il prossimo rincaro per i biglietti ATM a Milano ma come ancora e invece no aumenterà dal primo gennaio solamente il piccolo carnet quello il trigiornaliero perché non lo so però leggendo i vari articoli in giro si parla sostanzialmente di un biglietto che viene principalmente preso dai turisti classico ok il trigiornaliero e quindi ci sarà questo adeguamento per il suo titolo di viaggio occasionale trigiornaliero che è il menu utilizzato dall'utente abituale sto leggendo Milano today stava guardando in questo modo i perseggeri usuari di ATM la variazione del prezzo sarà compresa tra i 2 e i 3 euro per i titoli più venduti fino a un massimo di 6 euro per i titoli meno utilizzati quindi stiamo parlando di zone qua ok ah si le famose mi 1, mi 7 mi l'entrata in vigore della nuova tariffa è fissata per il primo gennaio 2024 vabbè se volete venire a fare il tour di seminario veniteci prima del gennaio 2024 allora si pagate di meno cioè nel senso poi dopo di che mi chiedo ma perché non vanno ad aumentare i biglietti a quelli di San Onico mi è andata la notizia settimana seconda che ATM si sta gestendo la metropolitana di San Onico chiedetele a loro i soldi non chiedetele a noi e che cavolo più che altro io adesso nelle altre città poi dipende se per la città città però nelle altre città mi pare che il biglietto sia addirittura da un po' più basso e dipende dove vai in Italia sicuro ma benvenga che comunque si paghi il servizio di attienda forse nelle altre città però sto pensando per i turisti dai due giorni in su tre giorni così ci sono dei pacchetti fatti apposta per i turisti cioè non va neanche il turista non va neanche la ATM a chiedere il biglietto a tre giornaliero ha il suo pacchetto turista dove c'ha i mezzi di superficie la metropolitana il treno e magari gli sconti ai musei e lo paga anche 50 euro io mi ricordo che ad Amsterdam è costicchia sì sì ma va bene in quei paesi ma anche Parigi Parigi mi sembra che sia un euro e 71 a costa sulla metropolitana quindi quando esci ciao ciao ti diri pagati un'altra il giornaliero costava tantissimo il tre giornaliero pure in realtà è uscito fino al anno scorso noi eravamo in realtà in Europa la città la mega città la metropoli con i mezzi meno costosi rispetto a tutte le altre città c'è anche da dire che fanno un po' ridere le nostre zone perché ad esempio sono un po' strette fa ridere il fatto che l'aeroporto invece non è così adesso finalmente l'inater avrà appunto la metropolitana però insomma non è ancora strutturata quella roba lì di divisione in zone forse io la terrei per città un po' più grandi appunto come Londra eccetera in cui sappiamo benissimo com'è la suddivisione delle zone ma se la zona 1 o la 2 magari ecco l'antico 1 arrivasse a magenta oltre Crescenzaco dall'altra parte no Crescenza scusa oltre Gessat dall'altra parte così magari abbiamo un po' di roba sul prolungamento delle M delle M3 delle M5 di tutte voglio prolungarle tutte voglio prolungarle arrivare lontano quindi va bene un po' di musica Hans Inc e Justin Timberlake 7 34 minuti bentornati dopo la piccola pausa questa era il UD non ne sbaglia una può piacere o non piacere ma secondo me non ne sbaglia una non la conosco così bene arriva sempre al punto non la conosco così bene secondo me sono uscito il nuovo disco adesso può piacere o non piacere ma non ne sbaglia una questa era il UD a proposito di cantanti faccio una piccola errata corrige escono oggi i biglietti per vasco ho detto una cavolata ieri non sono usciti ieri sai quanta gente c'era a cliccare per colpa tua gente che ha cambiato il computer gente che ha buttato il computer giù dalla finestra per colpa tua chiedo perdono adesso regali i tuoi biglietti chi scrive al 331 7853555 regalo i biglietti di Masieri per la che data il 12 l'hai detto basta ok quanti biglietti abbiamo che puoi dare il regalo io non ho uno ah solo uno ne hai comprati due solo uno perché ne devo comprare due perché hai una donna da portare un cane un animale sono due amici che vengono con me e quali sono gli animali saluto gli animali in ascolto amici di Masieri buongiorno sono già a lavorare i tuoi amici a differenza tua dipende che tu non fai a differenza tua che non fai una pene amata tutto il giorno allora torniamo sul discorso dei mezzi pubblici dei mezzi pubblici con una doppietta di notizie sempre riguardo questo tema ti ricordi che ieri e anche adesso mi è venuto questo piccolo lapsus parlando di show perché ho detto il show non l'hanno appena fatto però stamattina show per lo generale di 24 ore a Milano metro bus e treni a rischio ieri il ministero delle infrastrutture ha comunicato la data della protesta per in programma per venerdì 20 ottobre quindi venerdì prossimo quel giorno a Milano saranno a rischio i mezzi di trasporto pubblico ma ATM ma anche i treni di Trenord e quelli di Trenitalia e ci potrebbero essere disagi anche nel settore aereo e per le autostrade i lavoratori che protesteranno saranno quelli delle sigle CUB SGB Sicoba Basta di Elevarese e USI Unione Sindacale Italiana per quanto riguarda il trasporto ferroviario si dovrebbe fermare dalle 21 di giovedì 19 ottobre alle 21 di venerdì 20 ottobre quindi appunto 24 ore così come il personale aereo da mezzanotte a mezzanotte 11 giorni dall'ultimo non ho fatto l'uno di 9? si ecco 11 giorni adesso bisogna vedere no bisogna vedere niente basta 11 giorni basta adesso guarda metto un counter fuori qua in strada con chi ti sai days without strike e ogni volta come tipo i tossici i tossicodipendenzi si si come altro che gli alcuni anonimi hanno l'idea del 24 ore sono 24 ore che non cioè queste qui che fanno così sono 24 ore che non sciopero facciamo un altro sciopero adesso basta possono avere tutte le ragioni in sto mondo ma stavolta basta non so se beh la data è stata riportata dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti però bisogna vedere io non darei per scontato che effettivamente si farà essendo così vicino a quello precedente basta minacciare quel giorno lì sappiamo che avremo la città in base di auto si ma poi bisogna vedere se non lo so è un discorso delicato quello degli scioperi è un discorso delicato che forse viene utilizzato un po' troppo come strumento ormai io continuo a dirlo vediamo se si farà o meno mi fate arrabbiare adesso basta 11 giorni non esiste non esiste non esiste allora andiamo con la seconda notizia vai prolungamento metro di Milano non dalla parte di Bareggio eccetera perché sai che adesso c'è la questione Maggio settimo la russa la lilla piede sull'acceleratore dopo che anche il PD l'altro ieri ha votato favorevolmente appunto la mozione che è stata approvata in aula consigliare per il prolungamento della metropolitana M2 tra Cologno Nord e Vimercate c'è un problema però che i costi sono aumentati per le vicende che sappiamo di 215 milioni meno male poco come quando fai l'assicurazione sai che aumenta sempre un pochettino in questo caso sono 215 milioni però adesso non so se vabbè non dico nulla comunque comunque dovrebbe essere la verde giusto che viene allungata verso Vimercate in questo caso non c'è neanche è un progetto ancora non credo neanche tolto un sasso non credo finissero prima la M5 che va a Monza che sono lì bloccati col cantire da non so quanto facessero la famosa M1 che va a Baggio Cusago che sono 200 anni che dicono nel 75 si diceva che deve arrivare la metropolitana lì e ancora adesso non si vede niente mi sembra ci siano altre cose da sistemare come sempre poi la M4 è ancora finita finiamo prima le cose che abbiamo da fare comunque non so è una città che non stai mai ferma perché non so perché mi hai fatto polemico però stamattina stamattina mi hai fatto polemico io ho fatto polemico io mi hai fatto diventare polemico mi hai fatto diventare e allora sapete che c'è non c'è nient'altro da fare che ascoltare un po' di Buonamella musica qui su Crystal Radio oggi giovedì 12 ottobre alle 7.40 un classicone della musica pop stiamo parlando di Lady Gaga con Stupid Love Lady Gaga Stupid Love 7.43 minuti di nuovo qui in diretta su Crystal Radio 96.2 FM DAD Plus sito internet applicazione per iOS e Android e poi soprattutto potete rivedere tutto quanto vederci prima in diretta anche video sul canale Twitch di Milano All News e poi rivedere appunto sul sito di Milano News tutti i pezzi che vi sconfifferano di più della nostra trasmissione assolutamente cosa dicono i giornali caro Masieri ritorniamo sul discorso mobilità perché ci sarà un nuovo treno a Milano lo sai? ah beh il treno è sempre il treno un nuovo treno secondo te dove porta? dove porta? a Paradiso Città no è un trenino è il trenino di Umarell iniziativa del Municipio 6 sabato 14 quindi dopo domani domenica 15 questo weekend un trenino su gomma girerà nei nostri quartieri dice il comunicato stampa del Municipio 6 per visitare tutti i cantieri in corso in procinto di partire che bello un modo divertente per vedere come la nostra città sta cambiando e per scoprire le luoghi ancora poco conosciuti del nostro territorio vedi bravi ne approfittiamo per dire che è un evento gratuito però con prenotazione obbligatoria se volete scrivete Municipio 6 trenino degli Umarell e trovate tutto parto alle 10 di sabato e di domenica e ci sono due percorsi il percorso Giambellino Bande Nere Lorenteggio e il percorso Barona Moncucco e Ronchetto sul Naviglio mi piace vedi queste sono le belle iniziative che uno vede come si evolve la cosa se Monforte avessero fatto la stessa cosa non saremo qua a discutere di quelle strisce rosse collagate per terra che sono sacrosante giuste e tutto ma incomprensibili al cittadino medio vedi bastava fare una cosa del genere prima di dire andate facciamo questo facciamo quest'altro pittiamo di rosso facciamo qui cosa almeno uno capisce ho letto adesso l'occhiello del comunicato non hai ancora fatto il regalo ai tuoi nonni regala un bel giro dei cantieri grazie al trenino degli Umarell mi piace dopo di che scusate io lo farei anche se non sono nonno c'è il dress code si devi mettere per forza le mani dietro la schiena se no non puoi andare ma devi avere anche quel gillerino classico dei nonni quello con le tasche anche ad agosto anno per avere tutto quello se ti presenti con cappello e bastone vabbè ti fanno è il fast track quello fa stare davanti è l'early entry però bella iniziativa mi piace bravo a Santo Miniti e tutto il suo municipio bravo questa sera invece visto che parliamo di quartieri si sta avvicinando la saga di Baggio la festa di Baggio questo weekend ci sarà la grandissima festa di Baggio la saga di Baggio storica con tutto quello che ne comporta con tutte le varie iniziative questa sera vado proprio a Baggio perché ci sarà l'inaugurazione di una posa di una targa sulla sede di un'associazione che si chiama Il Balzo che ha la propria sede all'interno di un bene confiscato alla mafia allora questa sera appunto benvenga anzi questo tipo di iniziative si ribadirà ancora l'importanza del togliere questi luoghi alla malavita luoghi penso a questo era una sorta di un'edicola dove comunque in realtà era una copertura per vendere spacciare veleno diciamo ok si vendevano droghe e tutto presa confiscata e data a questa associazione Balzo che invece lavora con ragazzi in difficoltà ragazzi disabili della zona un'associazione costruita dai familiari appunto di questi ragazzi e ragazze e lì dentro si crea diciamo vita nuova quindi da quello che era un luogo completamente diciamo di morte e velini che poteva essere appunto quello gestito dalla malavita organizzata all'interno di questo luogo fanno tantissime bellissime iniziative quindi vi invito comunque ad andarci a prescindere dalla festa di Baggio e sul sito del municipio 7 c'è proprio una pagina in riferimento alla sagra di Baggio che vi invito adesso a consultare perché c'è il calendario con i vari concerti il concerto dei Jalice si 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 penso che siano il secondo anno che vanno alla sagra di Baggio non conoscevo la sagra di Baggio guarda se c'è la corsa degli asinelli è proprio letteralmente la locandina però credo che ci siano delle novità non ci siano più gli asinelli veri e propri ma credo che facciano vestire i bambini gli asinelli e fanno correre una cosa del genere una cosa simile che non so se è meglio o peggio prima era una roba dove devi chiamare Greenpeace perché c'erano i poveri asinelli gli ambientalisti gli animalisti dovevi chiamare adesso devi chiamare il telefono azzurro però no credo si diverte io se fossi un bambino vestito d'asino e mi dicono corri sei impazzito bellissimo ma quindi ci sono anche bancarelle c'è anche quella è la parte minore quella è la parte più bella sono tutte le associazioni tutte le bancarelle come ne chiami tu dei locali dei locals che stanno a Baggio non i locali pubblici cioè i locali locals che stanno a Baggio che raccontano le loro storie il giornale ad esempio il 18 oppure gli amici di Cascina all'interno il Bosco in città non mi far passare tutte quelle realtà che sono nel municipio 7 o confinanti a Baggio non mi far passare come l'ignorantone si dovrà pur mangiare si ci sono perché sempre lì arriviamo si ci sono le bancarelle del cibo ci sono tutte c'è quello che fa la frittella anche va bene contento c'è quello delle caramelle contento si ragiona meglio c'è anche quello che fa quello che fa solo di caramelle c'è anche lui sono grande fan mi spiace andiamo con un po' di musica se lo senti lo sai e lui è Giovanotti Giovanotti se lo senti lo sai si cosa? l'hai sentito? no volevo fare un po' la gag di cioè se lo senti lo sai è oggettivamente un titolo che solo che Cozzalone poteva pensare come direbbe che Cozzalone fa l'imitazione di Giovanotti? eh no vabbè lui faceva lo fa peffi fuful terei se lo senti lo sai diciamo che non è che ci va molto lontano invece sono state anche le scarpe piene di sasse le tasche non le scarpe le tasche vabbè ridendo e scherzando e posso dire perculando gente che non conosciamo che potrebbe anche farli incazzare e ci starebbe caro mio Lorenzo chiediamo scusa almeno io chiedo scusa non Lorenzo tu Lorenzo Cherubini chiedo scusa Lorenzo Cherubini sai che io mi chiamo Lorenzo principalmente per Lorenzo Cherubini non c'è l'entra questa cosa pensa che se avessi mai avuto un figlio anch'io avrei fatto così pensa con tutto il rispetto per giovanotti a meno diciamo che la moglie con cui ho dovuto fare dei figli aveva questa idea e quindi anch'io ho pensato che non era una brutta idea poi non è più stata la mia moglie che fa come fare i figli quindi è andato tutto un po' a quel paese come invece adesso non mi mandiamo a quel paese ma mi mandiamo ad ascoltare un po' di musica noi poi ci riascoltiamo di nuovo qui dopo il giornale radio nella seconda parte di trasmissione di Good Morning Milano a fra poco e in silenzio entriamo così sottovoce in punta di piedi in punta di piedi come piace a voi ma non so a voi chi non so qualcuno piace che io e te entriamo in punta di piedi dentro le case oh sveglia dai che capisci che è peggio allora entro entro con calma sono sempre le 8 e 12 sono sempre le 8 e 12 scusate siamo qui con sempre qui su Crystal Radio 96.2 FM Da Plus sito internet AppaiOS Android e soprattutto nel senso che potete vederci anche sul sito di Milano All News e chi ci sta guardando in questo momento vede già che abbiamo un collegamento lo diciamo a chi invece non ci vede ma ci ascolta solo in questo momento chi abbiamo collegato con noi caro mio Lorenzo Masieri Tamara Malleo di Teatro Maniera no cosa ho detto Tamara Malleo hai detto giusto sì Tamara Malleo hai detto teatro ho detto giusto dice anche lei che è giusto allora tu Tamara devi sapere che Lorenzo è un giovane di oggi e come tutti i giovani di oggi è insicuro ha le sue insicurezze ma come e allora dobbiamo un attimino no Tamara perdonami ma sono molto miope il problema è questo e gli schermi sono a tre metri da qua e Fabio mi fa sempre qualche scherzetto diciamo così dicendo di introdurre qualcuno non vedo niente eh da lontano anch'io faccio un po' fatica quindi ti capisco e allora buongiorno Tamara Malleo buongiorno buongiorno alle ascoltatrici agli ascoltatori di Cristal Radio e di Good Morning Milano grazie mille grazie mille a nome di tutti quelli che ci stanno ascoltando poi dopo vado uno a uno a prendere i ringraziamenti ma perché perché ci siamo collegati con Tamara Malleo perché da quest'oggi inizia una proficua collaborazione una nuova rubrica all'interno di Good Morning Milano che è quella del teatro cioè siete un branco ignoranti la verità è questa no e quindi vi mandiamo a teatro e vi facciamo un po' di cultura perché se no ogni volta siete sempre lì no ma invece io penso che proprio dal mattino il teatro deve essere una buona abitudine e quindi il mattino mi sembra un momento perfetto per raccontare cosa vi aspetta teatro e che cosa potete vedere a teatro e allora che cosa ci aspettiamo questa settimana nei teatri nei tantissimi teatri milanesi perché diciamo che Milano è la io Tamara esagio quando dico che siamo praticamente la capitale del teatro è vero siamo la capitale del teatro perché davvero c'è un'offerta che nessun'altra città italiana può vantare e soprattutto è anche un luogo in cui venire per visitare Milano ma anche per vedere molti spettacoli ve ne propongo tre in tre teatri in tre diverse zone di Milano così proprio viaggiamo per tutta Milano iniziamo da Campoteatrale che si trova in via Cambiasi 10 zona Lambrate molto vicino alla stazione di Lambrate quindi facilmente raggiungibile e fino a domenica 15 è in scena una compagnia molto giovane che si chiama Usine Baug con Ilba Foodpock Club quindi è una compagnia che ha deciso di raccontare la storia dell'Ilba e dei suoi dei lavoratori e dei cittadini di Taranto ma attraverso un altro punto di vista e cioè attraverso la storia della squadra composta da lavoratori dell'Ilba che per una serie fortuita di casi ha superato molte fasi della Coppa Italia scontrandosi addirittura con l'Inter e partendo da questo episodio la compagnia racconta cosa accade agli abitanti dell'Ilba qual è il rapporto tra l'Ilba e i suoi abitanti dal punto di vista lavorativo con quella forma diciamo così di vita e morte e lo fa in una maniera davvero molto profonda senza toccare la parte patetica ma entrando davvero in profondità in una narrazione molto viva e secondo me da condividere perché l'Ilba non riguarda soltanto chi abita a Taranto ma riguarda tutti noi in qualche modo hai capito quindi non c'è solo la favola dell'Aicester come dice sempre l'Aicester come lo si chiama ma anche dell'Ilba Football Club vedi qua in questo caso quest'episodio si riporta agli anni 70 ma poi c'è diciamo così un escursus storico che arriva ai giorni nostri volevo soltanto dire che la regina della drammaturgia appunto è di Usine Baughe e Fratelli Maniglio con Manfredi Messanam Andrea Perotti Ermanno Pingitore Stefano Rocco e Claudia Russo ricordiamo Zona Lambrate dicevi giusto? Zona Lambrate Campo Teatrale fino a domenica 15 invece adesso ci spostiamo in un'altra zona di Milano zona Abbiategrasso quindi fermata metropolitana verde Piazza o città c'era un film che diceva così Piazza o città Piazza Piazza Abbiategrasso c'è Pacta dei Teatri che ospita e produce una nuova compagnia insieme a una collaborazione con Campo Teatrale ecco di fondo che è la compagnia Caterpillar una compagnia che io seguo da un po' di anni da quando ci sono tutti ex allievi e allievi dell'Accademia dei Filodrammatici sai cosa fanno l'Accademia Caterpillar? la compagnia Caterpillar Tamara sai qual è la peculiarità dell'Accademia Caterpillar? fermalo per favore fermalo quando arriva loro spaccano ma davvero spaccano non hai torto perché spaccano e portano il loro ultimissimo lavoro che si chiama Imprinted quello che non ti dicono dal 18 al 22 ottobre a pacta di teatro quindi fermata metropolitana abbiate grasso tutti i giorni alle 20.45 quindi un orario accessibilissimo a parte il giovedì che sarà le 19 ancora più accessibile perché si può tornare tranquillamente con la metropolitana la regia è di Valentina Sicchetti con Denise Brambillasca Gaia Carmagnani Laria Longo e Eugenio Fea si racconta la storia di una scrittrice che diciamo così per una serie di situazioni entra in una redazione come giornalista e ci si chiede quanto è disposta a scendere a compromessi per raggiungere il proprio sogno quello di vedere pubblicato un libro all'interno di un sistema che è quello della comunicazione e all'interno di un sistema dove la donna insomma è sempre deve combattere contro dei principi e contro delle idee legate che ha un dominio del patriarcato che sicuramente va contrastato e si cominciano a vedere i frutti ma insomma diciamo che bisogna lavorarci ancora molto allora ci spostiamo ancora sì dove andiamo adesso arriviamo al centro di Milano in zona Porta Romana Porta Romana è una zona anche questa ricca di teatri Porta Romana dove c'è un luogo più che diciamo così un evento in particolare ma c'è un luogo che si chiama a Precu ed è un luogo che si trova in via privata della Braida ed è un luogo che accoglie diciamo così l'arte nelle sue varie forme è un luogo aperto dalle 18 dove si può mangiare dove si può bere ma dove si propone dell'arte in un luogo non prettamente teatrale ci sono concerti jazz c'è una stagione di stand up comedy che come tu sai è un po' la moda del momento Lorenzo è il posto ideale per te si mangia si ride e si sente il jazz cioè meglio di così cosa vuoi te lo consiglio Lorenzo no perché se non si mangia ti spiego cioè dei due a vederci se muoio quello che non si muove se c'è del cibo ma in realtà il buon Lorenzo non si muove dal divano se non c'è del cibo ma è perché a me fa piacere ma è perché è la convivialità che dà il cibo esatto ma io sono d'accordo con lui grazie e in questo luogo appunto domani per esempio c'è la stagione di stand up comedy gestita da Francesca Puglisi che porta comici comiche e comici e racconta appunto la comicità attraverso un laboratorio quindi ognuno può provare anche a vedere che cosa proporre al pubblico e poi c'è una stagione di teatro proscenio curata da Laura Tassi dove ci saranno davvero tanti artisti ma io ve ne segnalo due in particolare che sono scusatemi che si è impigliata la pena due in particolare che hanno creato insieme un connubio che sono Lorenzo che sono scusatemi Loris Fabiani e Alice Francesca Redini che lavorano separatamente come attori ma in realtà insieme hanno formato la coppia Alice e Loris che artisticamente propongono una stand up comedy però un po' particolare e quindi ve la consiglio all'interno della stagione di Aprecu ma in realtà loro girano per Milano ma proprio interessante coppie di stand up comedy non credo nemmeno mai viste quindi interessante come formula anche questo dove dicevi Aprecu si chiama Aprecu è un luogo bellissimo che ti fa portare un po' indietro nel tempo agli anni 30 perché questo è un po' diciamo così la location peraltro perfetto per te ti ricorda i primi anni della tua vita ti ricordo quando appunto un giovane ma vecchio dentro si dice qua si dice c'è la gag condivisa che sono vecchio dentro e non condivisa con me condivisa con tutta la creazione di Milano Ognoso condivisa anche a me stesso a te stesso peraltro Aprecu scusami se ti rubo un attimo ci sono anche molti incontri di presentazione di libri in collaborazione con la scatola Lilla che è una libreria gestita da Cristina Di Cagno che è proprio accanto quindi avete anche la possibilità di poter accedere diciamo così alla presentazione di libri bellissimi perché sono incontri molto preziosi chiarissimo allora se lo dico chi ci sta ascoltando se anche voi vi siete innamorati della bellissima voce di Tamara Malleo come noi abbiamo fatto da anni ormai io e Tamara ci conosciamo io e Tamara ci conosciamo da lunga data devo dire direi da quasi 20 anni quasi 20 anni sono già mamma mia non avevo fatti conti perché la barba bianca già mi diceva che era tanto tempo la mia barba bianca e quindi non volevo fare i conti ma se volete sapere di più su Tamara e sul teatro se volete vedere quanto è brava e sentire quanto sa parlare bene in teatro tu Tamara diciamo hai anche un'altra hai una tua trasmissione che si può seguire giusto dai dacci due coordinate grazie ho la trasmissione il venerdì su Milanao il canale 191 del digitale terrestre e replica il lunedì su Antenna 3 quindi canale 11 alle 23.30 insomma la raccontiamo tante altre cose perché ho un'ora e mezza e quindi e passa veramente passano tutti cioè chi è quelli giusti che fanno il teatro a Milano di lì ci passano perché Tamara non li fa scappare anche io passo sono veramente perché li seguo e quindi poi sono là che cerco di incontrarli comunque Tamara se ti serve un collaboratore che ha pa chiudere le porte il buon Masieri abita nella via di fronte alla sede di Tele Lombardia quindi se volete allora lo invito per un caffè ti può fare da uscire e posteggiare le macchine e gli ospiti se vuoi tanto la sera non va in conflitto con la nostra trasmissione quindi va benissimo dai allora grazie mille Tamara grazie mille di tutte le indicazioni che ci hai dato ci hai dato soprattutto la conferma di una cosa che davvero Milano è la capitale del teatro Milano c'è tantissimo da vedere e da ascoltare e da imparare anche mi è da dire e facciamo diventare il teatro un'abitudine come andare al cinema come andare a cena come fare tante altre cose il teatro deve diventare un'abitudine grazie mille grazie a Fabio e a Lorenzo e alle ascoltatrici e agli ascoltatori grazie mille grazie mille Tamara molte abitudini sono anche ad esempio alcuna gente c'è abitudine di andare in palestra queste malsane abitudini cioè molto meglio andare a teatro ma volete fare non vi fa male siete seduti vi fa benissimo alla mente quando fa caldo vi mettete la magliettina che c'è la ricondizionata quando fa freddo c'è il riscaldamento e vi coprite quindi state benissimo state invece vai in palestra vai in palestra dove hai sudi ti fai male la tua crociata personale è contro chi va in palestra posso dire può reggere fino a una certa perché comunque fa anche bene pensa di mettere la stessa stanza a me e Michelle Obama sai che lei è super fan di queste cose ho pensato a mille persone prima di Michelle Obama come stereotipo di chi va in palestra sai che lei ha tutta la sua campagna sulla cosa hai parlato di Porta Romana no mi sembra giusto Tamana? l'ultimo sì e allora andiamo andiamo allora a Porta Romana con il grande signor G che tra parentesi di teatro ne ha fatto e come esatto grazie mille Tamara ci vediamo stessa alla prossima ciao 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 nord sud ovest est 883 alle 8 e 34 l'altra volta erano le 8 e 33 la cosa del genere si funzionava meglio invece 8 e 34 questa volta comunque siamo tornati qui in diretta con voi grazie alla compagnia grazie anche a chi ci sta scrivendo al 3317853555 grazie perché hanno subito apprezzato i consigli della buona Tamara Valleo che ricordiamo cosa? tornerà settimana prossima cioè diventa appuntamento fisso appuntamento fisso e ci dice appunto Katia buongiorno e grazie delle info artistiche il teatro come ottima abitudine e quindi va bene grazie grazie a Tamara e grazie a Katia per il suo messaggio 3317853555 abbiamo un collegamento ancora adesso abbiamo un collegamento seconda parte di trasmissione ultima mezz'ora sono venuti settimana scorsa venerdì scorso a parlare di smonting e anche oggi abbiamo in collegamento telefonico Filippo Valenti da appunto di smonting buongiorno Filippo buongiorno a tutti allora grazie di essere collegato con noi ci colleghiamo con Filippo perché tra tutte le cose che abbiamo detto settimana scorsa diciamo la verità questa è radio verità abbiamo detto tantissime cose ma ci siamo dimenticati delle cose perché ne fanno così tante che non ci stavano tutte nella mezz'ora in cui sono stati qua ospiti con noi e ce n'era una soprattutto che ci tenevamo tanto sia Filippo a far raccontare perché ci chiama diciamo tutti quanti un po' all'appello e possiamo contribuire tutti quanti giusto Filippo? Sì 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 è un'iniziativa che vogliamo lanciare si chiama una SSD sospesa come il caffè napoletano qualcuno paga sì il caffè sospeso qualcuno paga questa SSD che non è altro che un disco veloce ok diciamo l'SSD è una memoria cioè è l'artisk moderno diciamo l'artisk veloce da nuova vita da nuova vita vecchi PC li rende veloci e quindi quando noi li rimettiamo a posto per donarli alle associazioni se ne abbiamo il PC è più veloce più performante e può essere utilizzato meglio quindi prendendo spunto dal caffè napoletano volevamo lanciare questa iniziativa chiarissimo chiarissimo e allora come funziona appunto nella fattispecie come possiamo fare noi o cui ci sta ascoltando ma che magari anzi non devi neanche andare a comprare l'SSD magari ce l'ha però che ne so ce l'ha da 250 giga vuole fare lo sbrone prendersi quello da un terabyte e dice ma quello lì cosa me ne faccio lo sbatto via tanto che me frega me no non sbatterevi a niente riciclo riuso quello che dicevamo la scorsa volta riusiamo queste cose e se ce l'hai ferma donacela noi siamo raggiungibili a info chiocciola smonti in punto it veniamo a prenderla direttamente noi e la installeremo su un nuovo su un vecchio PC per dargli nuova vita e vi assicuro che questi PC che veramente magari sono PC vecchi di 10 anche di più 15 anni rinascono completamente perché davvero la tecnologia in realtà è così avanti e quei computer lì potrebbero funzionare per altri 100 anni quasi 100 esageri ma veramente per tantissimi anni ma ovviamente vuoi il modello nuovo vuoi l'ultimo gioco che è uscito per tuo figlio e non gira sul computer che avevi o vuole l'hard disk più veloce perché volete la grafica sempre più reale che poi io voglio capire una cosa ma se io gioco perché voglio la realtà io voglio la finzione tutto così reale mi spaventa anche un po' con questo parleremo di Tamar perché è una cosa molto teatrale è vero è vero è vero e invece basta mettere a volte magari un hard disk più veloce una memoria più veloce e questi computer rinascono completamente voi veramente fate cioè franche stiamo niente in confronto cioè voi fate veramente delle opere d'arte mi vien da dire date vita a cose che chiunque darebbe per spacciato siete oltre la terapia intensiva siete dei computer no ma la cosa bella è che non siamo gli unici nel senso molte altre associazioni fanno la stessa cosa utilizzano vecchi pc di 5-10 anni e utilizzando queste memorie veloci rinascono il guadagno in tempo è 10 volte ovvero un vecchio pc che ci impiega 300 secondi quindi 5 minuti ne impiega 30 ad attivarsi quindi è proprio veramente veramente utile e poi per chi non ha una ssd a casa può fare una donazione questa volta accetteremo le donazioni in soldi con paypal su donazione chiocciola smonti in punto it e poi avremo cura di dire questo ssd e a che associazione andrà capito chiarissimo quindi poi dopo infatti la cosa bella con smonti che non è che dai lì la roba e poi non sai più dove va loro poi ti dicono cosa succede cosa ne fanno cioè tutto quello che passa da loro appunto viene diciamo rendi contatto non solo economicamente ma anche proprio socialmente già ti dicono la vita che avrà sì perché non vogliamo convincervi dello smonti vogliamo farvi innamorare dello smonti è fondamentalmente diverso e quindi dirvi dove vanno le cose che voi donate che voi reputavate un rifiuto e vengono riutilizzate per noi è fondamentale chiarissimo chiarissimo allora dai Filippo grazie mille ricordaci il sito su cui possiamo andare per sapere tutto e anche la mail a cui scrivere allora il sito è semplice smonting.it la mail ancora più semplice è info chiocciola smonting.it e per fare la donazione è donazione chiocciola smonting.it prima di salutarti una cosa velocissima ricordiamo perché si chiama smonting smonting non è solo l'inglesizzazione della parola smontare non è solo quella ma è molto di più è una parola macedonia che è formata da tre parole che è smontare insieme giocando noi giocando facciamo smontare le cose e attraverso il gioco cerchiamo di insegnare come funzionano le cose grazie mille grazie mille buona continuazione di giornata grazie continui ad ascoltarci anche tu come tutti voi che siete collegati con noi in questo momento su crystal radio 96.2 fm da plus sito internet app di ios e android adesso un po' di musica merci the blessed madonna e questo era Calvin Erlis Calvin Erlis scusate insieme a Dua Lipa Potion Potion con Dua Linga Young Tug alle 8.47 siamo quasi arrivati in fondo quasi in chiusura però so che ancora qualcosa non vero vai 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 la stampa velocissimo comunicato del comune di ieri sì di ieri mobilità da novembre nella cerchia dei bastioni sosta consentita per un massimo di due ore la sosta sarà gratuita senza limiti orari tra le 24 e le 8 del giorno successivo questo l'occhiello in maniera da rendere un po' la pillola meno amara meno amara di notte grazie meno amara dal prossimo novembre la sosta nella cerchia dei bastioni cambierà per potenziare il principio di rotazione e garantire a tutti la disponibilità di posti auto cosa vuol dire? vuol dire che la sosta a pagamento in vigore tutti i giorni della settimana dalle 8 del mattino alle 19 di sera sarà consentita per una durata massima di due ore senza possibilità di ulteriore estensione io ho letto questo comunicato sono andato sulla pagina facebook del comune di milano ho visto qualche commento il primo è ti giuro ti giuro non perché c'è stato amara eccetera se devo andare a teatro e lo spettacolo dura più di due ore io come faccio giusto basta abbiamo detto e non è detto non è detto che possa andarci con i mezzi a quell'ora perché il pullman che va ad Abbiategrasso città invece o il treno che mi porta a Legnano così non è detto che ci sia fino a tardi e quindi o facciamo che i teatri milanesi ci vanno solo quelli che avvano a Milano nella cerchia dei bastioni oppure il treno che va ad Abbiategrasso città ansa Lombardia che ansia va bene Lombardia è ricerca dell'edizione del 2023 alcuni giornali titolano il Nobel Lombardo non lo danno a te? come mai sei qua? non lo danno a te Lombardia è ricerca 2023 va Steven Rosenberg e Carl Jun penso si dica penso si dica due pionieri del di immunoterapia la premiazione avverrà il prossimo 8 ottobre al Teatro della Scala nel corso della giornata della ricerca dedicata alla memoria di Umberto Veronesi quindi anche il Nobel abbiamo anche il Nobel a Milano abbiamo tutto mi ha detto un'ora e mezza da tutto abbiamo anche il Nobel scusate adesso scusatemi ansa Lombardia dice il premio internazionale Lombardia è ricerca io vedo un po' uno simoro ma no starate lo danno anche agli stranieri infatti l'hanno vincito lo so però mi fa ridere il premio internazionale sì sì non l'avevo l'abbiamo l'abbiamo visto che c'era una giornata internazionale in un piccolissimo comune sì sì quello della gioia della bontà sì sì prima internazionale della bontà non ricordo in che paese sono le 8.50 non abbiamo ancora citato lui allora ci sono due cose o San Siro l'abbiamo ancora citato San Siro l'ho tolta ah ok perfetto allora radio Carlo Monguzzi 23 ore fa Carlo Monguzzi sulla sua pagina Facebook provo provo una rabbia profondissima era un prato con tanti alberi si poteva e si doveva evitare stiamo parlando chiaramente di tutto il discorso che ruota attorno a Piazza dei Bagliamonti in cui verrà costruito il Museo della Resistenza benvenga evviva ma ma lo si sta facendo sradicando alberi ricordiamo la crociata di Giovanni Storti con il glicine che si è salvato più o meno più o meno però non si sono salvati i tigli eccetera quindi Carlo Monguzzi pubblica questo io ho aperto i commenti il primo è una domanda che più volte ritorna in questi studi un signore che lo segue dice un ragazzo dice far cadere questa giunta invece di continuare a fare posti inutili Carlo Monguzzi Carlo Monguzzi cosa risponde? come? tu che sei così utile spiegacelo questa è stata la risposta del moderato Carlo Monguzzi il moderato Carlo Monguzzi salutiamo lotta sempre insieme a noi sì per quanto riguarda la vicenda di Bagliamonte alla fine ogni tanto ci sta alzare un po' i toni abbiamo visto le immagini di Giovanni Storti ricordiamo di Aldo Giovanni e Giacomo arrampicato su le recinzioni è un qualcosa che smuove le coscienze eh sì quello che succede comunque nella nostra città è questo lo potete ascoltare tutti i giorni qui con noi a Goodmano Milano ve lo raccontiamo appunto sempre qui in diretta adesso Monguzzi gli chiederemo come rispondere facciamo un corso di come rispondere sui social a chi non è raccoglio con te andiamo avanti con un po' di musica anche a Marzellus anche a Marzellus vedi tutto è abbastanza bipartisan perché non è che dall'altra parte ti rispondono meglio infatti con la pesce di Martino hanno fatto una bella canzone l'hanno fatta insieme ad Avanoni e si sono definiti dei Toy Boy e questo adesso ce l'ascoltiamo Toy Boy con la pesce di Martino insieme a Dordella Baroni